Corsa i tamponi nella batta a ridosso di capodanno. Anche i dati covid della sesta provincia pugliese preoccupano per l'incremento dei contagi negli ultimi giorni. Lunghe code presso il drive-thru del pala di sfida di Barletta che confermano i numeri post natalizi. La città della disfida la più colpita della provincia con gli attualmente positivi che hanno superato quota 300 sotto stress i laboratori analisi e le farmacie con le festività in corso che stanno mettendo a dura prova il tracciamento dei contatti stretti. In molti inoltre i cittadini che stanno ricorrendo al tampone in via preventiva in vista della vigilia del primo dell'anno. Ancora lavoro intenso invece presso gli app vaccinali anche con l'avvio della somministrazione della prima dose ai bambini. Nel frattempo l'ospedale di Biceglia ha interrotto i ricoveri ordinari in vista di un possibile incremento delle ospedalizzazioni da covid. L'appello dell'aslo provinciale resta quello di accelerare con le vaccinazioni.